Ciao a tutti, benvenuti tornati a Danmemo. Come potete sapere, i goblini sono fuori, quindi è il momento di tornare alla situazione, ma non davvero, perché abbiamo un nuovo evento che è abbastanza speciale. Come potete vedere qui, questo evento è basato su un chapter di Sword Oratoria, che non è nella storia del gioco, perché questo gioco ha la storia principale Danmachi, poi abbiamo Sword Oratoria, dall'eis e l'epilio, e poi abbiamo Ryu Episodio, che è un OEV, non lo posso capire, scusate, io lo chiamavo OVA, ma non è quello che è, quindi volevo mostrare la gacha, e poi magari farò la storia dopo, vedremo. Come potete vedere la gacha, abbiamo due nuove caratteristiche che non sono davvero vedevano nel mondo Danmachi, fuori di Sword Oratoria, questa elfa qui e questa ragazza qui. Voglio pulire per Lefea, quindi faccio questo con Hestia e la nuova ragazza, ma i migliori uniti che puoi ottenere sono probabilmente questa Ice e l'elfa qui, quindi volevo fare alcuni puli per la gacha, spero che puoi apprezzarlo, lasciami sapere se ti piace Danmachi, faccio più contenuti sull'anno se lo faccio. E andiamo all'interno, il primo pulo come sempre è garantito 4 star, faccio 4 puli, quindi il primo e il quarto avranno una unità di ultradare. Ah, ho iniziato il game di 7 dead recently, faccio un video di gacha dopo oggi, dopo ottenere alcuni più gemi. Non sono davvero sicuro come coprirlo, magari lo faccio come questi giochi dove si faccio solo gli eventi, storie e poi gacha, perché la forma di portrì la storia è abbastanza unica, è un gioco davvero divertente, non davvero qualcosa che vedo in questo genere, con alta qualità, alta fiducia alla storia principale, c'è molto di cose da fare, davvero molto, e in generale è un'altra fiducia, c'è qualcosa. dovrebbe essere la nuova unità, la ragazza. Delightful maid. Lei e l'elfe dovrebbero essere da la famiglia di Loki, ma sono caratteri minori, quindi non li vediamo. Allora, vediamo cosa c'è, sembra che c'è un foglio e... cosa è questa, un'unità di magica, sembra che sia buona. Vediamo un altro pull in, vediamo se possiamo ottenere un lucky pull e una 4 star, non davvero, ma non sembra così. quindi continuate parlando di Seven Deadly Sins. Ha un po' di cose da fare, è davvero ben pulito, e dovrebbe essere globale, quindi anche se non ti piace le serie, è un buon momento di entrare in e provarlo. Personalmente, sulla storia di Seven Deadly Sins, mi piace davvero l'inizio, ma come si arriva dopo, si arriva molto, molto, molto... come l'autore non voleva finirlo sulla notte giusta, che è iniziato a diventare come i finali capitoli di Naruto, se lo sai, dove c'è la guerra. e poi, la guerra è bella, mi piace la guerra in Naruto, ma poi la parte finale fa nulla sensazione, con Madara e Kaguya, non mi piace così, perché si trattava, sai? Sì, volevi vedere l'ultimo di Naruto, dopo aver vincitato Pain, volevi vedere il miglior concetto con Sasuke che succede a l'ultimo, ma l'ultimo si trattava tanto tempo che non rende sensazione. Seven Deadly Sins è la stessa, quando arrivano all'ultimo, e è una buona parte, continuano spiegando, più e più capitoli per cose che potrebbero essere prima, perché non rende sensazione di farlo dopo aver vincitato l'ultimo boss, ma questo è proprio un'altra parte per me. Mi piace la serie, mi sento che, uno dei più shonens recentemente, è uno dei migliori. Non davvero convincente per la terza season dell'anime, perché hanno davvero un basso budget per l'anime, se vedete le animazioni, sono un mime recentemente. Per Dammachi, credo che Dammachi è ancora in una fase in cui la storia è un po' inizia ora, è ancora un po' in un tutorial, sai? Ora ora è inizia bene, abbiamo più interacioni, più caratteri, più cose, per avere Bella e Hestia crescere. In i primi capi è solo un concetto, che è bene, perché mi piace un concetto in animi, soprattutto se è bene. Ma come la prossima season, che è, credo, in spring, quindi circa alcuni giorni da ora, dovrebbe essere una buona, e probabilmente otteneremo qualcosa in questo game come eventi. Quindi non abbiamo capito di pulire 4 stari nel segmento del pool, ma ora abbiamo una garantita, quindi speriamo di ottenere le figlie. Un'altra cosa che non mi piace di questo game è che, per fare un'unità funziona, non è sufficiente per pulire una volta, perché voglio farlo davvero abbastanza. E, come, è già difficile pulire un'unità, quindi voglio me pulire 5 volte, per usare un'unità, quindi dovremmo trovare un'unità, quindi dovremmo trovare un'unità, quindi dovremmo trovare un'unità, che vi vogliono, ma abbiamo ancora qualcosa, credo. Quindi, che altro è da dire? Cioè, ho già dato un'esplanazione di questo game nel primo Gacha Pool di Goblin, se vuoi andare lì. Quindi questo era solo un video breve, volevo aggiungerti voi su quello che farò con questo game. Probabilmente dopo questo evento prenderò un'esplanazione, come ho detto, non è davvero un game che mi sento che sia piaciuto di giocare a livelli di hardcore, perché, come puoi vedere, facciate alcuni puliti, ricevete buoni uniti, ma non li usano perché non li ho pulito 5 volte. Quindi, ho piaciuto l'evento, ho piaciuto il game in itself, è davvero pulito, è davvero bello, guardate, le uniti hanno grande arte, le attacche sono belle, ma per fare le uniti funzionano, specialmente ora, che sanno introdurre una meccanica per le weaponi, non sono sicuro dove si farà. Ma sì, ho spero che puoi divertirlo, ricordate, il game è disponibile worldwide, quindi solo hop in, download it and play. Vi vedo probabilmente la prossima quando c'è un'interessante gacha in questo game, o se vedete i miei video di storie, ho provato di cover questo evento, mi sembra che è un buon evento per avere un capito della storia principale di Sword Oratoria come un evento, quindi ho provato. Grazie mille, ragazzi, ricordate di lasciare un sub e un like se avete piaciuto i miei contenuti e i miei feedback, ovviamente. Vi vediamo la prossima e spero che puoi mettere i tuoi esti o i tuoi o i tuoi in questo banner come ho fatto. Grazie mille, vi vediamo la prossima. Musica Grazie a tutti.